A tu per tu, interviste e opinioni a cura di RWS. Un saluto a tutti da Alessia Calvagno, con me oggi due ospiti abbiamo l'onorevole Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato, benvenuto. Grazie. E poi il pastore Davide Romano, direttore del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Adventiste e vicepresidente della Commissione delle Chiese Evangeliche per i rapporti con lo Stato, benvenuto. Grazie. Venerdì 15 maggio, una data importante per le Chiese Evangeliche e per le minoranze religiose. A Palazzo Chigi, infatti, il Presidente Conte e il Ministro Lamorgese firmano il protocollo con numerose confessioni religiose per l'esercizio della libertà di culto in questa situazione di emergenza. Onorevole Ceccanti, nella seduta di giovedì 14 maggio la Camera ha approvato il decreto recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lei aveva condotto una battaglia parlamentare perché, in questa situazione nella quale ci troviamo, la libertà di culto potesse essere garantita per tutti, non solo per i fedeli cattolici. Una battaglia sicuramente importante, pensando anche all'articolo 19 della Costituzione, che afferma che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Il suo emendamento è stato approvato, la Camera ha approvato il decreto. Quindi ci chiediamo, che significato assume a suo parere questo risultato? Diciamo, io sono particolarmente contento perché questo è uno dei rari casi in cui la presentazione di un emendamento, non la sua approvazione, la sua semplice presentazione smuove il governo. Infatti noi, dopo quelle difficoltà che sono emerse la sera quando il Presidente del Consiglio ha presentato il nuovo DPCM non dicendo niente sulla libertà di culto e quindi creando una situazione in qualche modo spiacevole per tutti perché ci si attendeva una novità, abbiamo assunto qui alla Camera un'iniziativa di proporre un emendamento dove sia per la confessione cattolica per sbloccare la situazione, ma sia per tutte le altre si indicasse in un metodo pattizio la possibilità di poter riaprire simultaneamente a tutte le confessioni religiose, a tutti i cittadini che volessero esercitare il culto. Questa è stata l'iniziativa e immediatamente dopo la trattativa con la Sheik era già più avanti, anche se aveva qualche impiccio, è stata sbloccata ed è stato avviato immediatamente anche il tavolo con tutte le confessioni diverse alla cattolica senza distinguere le confessioni con intesa e quelle senza intesa, perché un conto è il metodo pattizio, quando si tratta di ripartire con i culti in sicurezza per tutti coloro che vogliono partecipare è giusto avere un'adesione specifica alle modalità di ciascun culto che è diverso dall'altro. Però come ha chiarito più volte la Corte Costituzionale, questo metodo di dialogo di parti non deve essere ristretto solo alle confessioni con intesa, perché ce ne possono essere anche altre, che non vogliono l'intesa per legittima scelta o che non possono, per vari motivi, che hanno diritto anche esse ad avere una piena cittadinanza nel nostro Paese, una piena libertà di diritto di culto per i propri fedeli. Quindi poi dopo è venuta anche l'approvazione e questo è andato benissimo e così via, però mi sembra che questo appunto sia un momento molto positivo in cui il Governo non ha voluto attendere l'approvazione, ma ha giocato anticipo e gli è bastata la presentazione. Io penso che questo abbia dato anche nel nostro Parlamento un'immagine altamente positiva senza la quale ci sarebbero state un po' le cose anche sgradevoli di questi giorni di un tradizionalista cattolico eletto con la Lega che si è messo a fare polemica impropria contro l'appena liberata romano che tutto ci stava tranne che insultare in aula come neoterrorista. Ecco, è uscita l'immagine invece di un Parlamento unito nel segno della libertà religiosa per tutti. Pastore Romano, la Commissione delle Chiese Evangeliche per i rapporti con lo Stato aveva esposto in una lettera indirizzata al Ministero dell'Interno le necessità specifiche delle Chiese e religioni di minoranza. C'è stato poi un incontro in videoconferenza tra il Ministero dell'Interno e i vari rappresentanti delle diverse minoranze. Il protocollo soddisfa le richieste che erano state inoltrate dalle Chiese protestanti? Beh, diciamo che il protocollo riprende molte cose, molte indicazioni utili che la CERS, la Commissione delle Chiese Evangeliche per i rapporti con lo Stato, aveva sottolineato nella sua lettera e quindi aveva suggerito al Ministero diversi passaggi che potevano avere un profilo di delicatezza per le Chiese Evangeliche. Ricordiamo che fino a quel momento si aveva quotidiana notizia e informazione del dialogo serrato e appunto a volte anche complicato, come diceva poco anzi l'onorevole Ceccanti, tra lo Stato e la conferenza episcopale italiana, ma non si erano ancora avute interlocuzioni, diciamo, di qualche livello con le comunità evangeliche o con altre religioni. Sicché quando siamo stati convocati, sia pure in un tavolo che non era pienamente rappresentativo di tutte le minoranze religiose in Italia, c'è stata però, parlo di martedì 5 maggio se ricordo bene, c'è stata però almeno l'occasione per riprendere una serie di punti delicati, ripeto, per le Chiese Evangeliche. Ad esempio la questione dei Ministri di Culto, della loro operatività anche fuori dalla propria regione, diciamo, di residenza, la possibilità per i vari, diciamo, appartenenti alle Chiese di potersi spostare anche fuori dalle proprie regioni, quando a volte la Chiesa più vicina si trova in un'altra regione o in un'altra provincia. Insomma, c'erano una serie di situazioni che andavano naturalmente sottolineate perché non è detto che il Ministero ne fosse a conoscenza e confermo anch'io che l'iniziativa, la simultanea, diciamo, iniziativa dell'Onorevole Cercanti in Parlamento è stata di fondamentale importanza perché ha contribuito a, diciamo, rendere necessaria questa interlocuzione attenta, serrata con le minoranze religiose, che fino a quel momento, ripeto, era abbastanza assente. Onorevole Cercanti, lei ha presentato il 13 maggio un'interrogazione al Presidente del Consiglio proprio in materia di libertà religiosa per sollecitare il rinnovo di quattro commissioni governative scadute da più di due anni. A suo avviso, prendendo spunto da quanto fatto in questa situazione di emergenza, potrebbe esserci in futuro un'apertura verso un dialogo costante, verso un'attenzione costante nei confronti delle minoranze religiose in Italia da parte del Governo? Quale importanza potrebbe rivestire il regolare funzionamento di queste commissioni? Guardi, diciamo, io sapevo da tempo che queste commissioni erano scadute, però avevo qualche dubbio su presentare altri, perché mi sembrava che fosse un clima in cui a nessuno importasse granché di questo fatto e mi riservavo di farlo in un momento in cui ci fosse l'occasione, ci fosse un incentivo complessivo. Ora, a me sembra che, se anche, spero, i rappresentanti le confessioni, anche loro faranno pressione, il Governo sull'onda e la firma del protocollo potrebbe anche muoversi subito in questa direzione, perché sarebbe il naturale completamento. Quindi io abbiamo fatto questa interrogazione non solo come atto testimoniale, ma proprio convinti che sia il momento giusto per una svolta. Speriamo che lo sia, allora. In chiusura vorrei chiedere a entrambi gli ospiti. Pensate che questo protocollo, con numerose confessioni religiose per l'esercizio della libertà di culto, possa essere un primo passo sulla strada del riconoscimento dei diritti in ambito di libertà religiosa anche da parte dei comuni cittadini? Pensiamo che magari possono trovarsi anche nella vita di tutti i giorni a contatto con persone di una fede diversa dalla propria. Pastore Romano. Guardi, c'è da augurarsi che effettivamente sia un po' l'inizio di un metodo, diciamo, si sia inaugurato un metodo. Ora, era sempre possibile per i rappresentanti di una chiesa o di una minoranza religiosa, era sempre possibile chiedere e ottenere un incontro con il Ministero degli Interni, con il Dipartimento degli Affari di Culto. Negli ultimi anni c'è stata anche una particolare sensibilità da parte della persona che rappresenta quel Dipartimento, però la situazione era sempre quella di forte imbarazzo, di forte subordinazione, per cui bisognava chiedere, poi attendere di essere ricevuti. Insomma, andare un po' lì, devo dire, con il cappello in mano, quasi, non tanto a chiedere che il proprio diritto, quasi a chiedere delle cortesie. Ecco, mi sembra che questa occasione in cui il Ministero ha preso l'iniziativa di convocare una serie di minoranze religiose, ripeto, non tutte, ci tengo a sottolinearlo, perché a quel tavolo mancavano diverse rappresentanze religiose che hanno decine di migliaia di membri aderenti, insomma, non è una situazione ancora ottimale, ma comunque sia, si è inaugurato un metodo abbastanza nuovo. Ecco, dialogare con i rappresentanti delle varie minoranze religiose in Italia e ascoltare un po' il loro punto di vista, le loro istanze, raccogliere quello che è possibile, diciamo, in qualche modo raccogliere delle loro istanze. Ecco, quindi c'è da sperare che questo metodo venga coltivato anche in futuro, anche perché non dimentichiamoci che la grande criticità del nostro sistema è, appunto, come poc'anzi anche un po' alludeva l'onorevole Ceccanti, che alcune chiese hanno comunque maggiori possibilità di far sentire la propria voce perché alcune chiese e anche alcune religioni, i buddhisti, gli hinduisti, hanno la possibilità, diciamo, in virtù dell'intesa di essere un po' più, di far sentire un po' di più la propria voce. Ma ci sono interi corpi ecclesiali o ci sono altre religioni, ma pensiamo anche soltanto al caso emblematico dell'Islam, che non hanno ancora, per vari motivi, e anche perché il sistema delle intese nel tempo si è un po' affaticato e inceppato, non hanno un'intesa. Quindi la loro capacità e possibilità di interlocuzione con le istituzioni è abbastanza flebile. E allora, ecco, se quel tavolo martedì 5 maggio diventasse una consuetudine, sarebbe certamente, aprirebbe, io credo, davvero un'epoca nuova nei rapporti tra lo Stato e le minoranze religiose e naturalmente questo non potrebbe che avere un riflesso positivo per le tante persone, uomini e donne, che aderiscono a diverse chiese di minoranza o religioni di minoranza. Onorevole Cecanti, lei cosa ne pensa? Ma io penso che dalla foto di gruppo ci sarà una notizia che arriva a tutta l'opinione pubblica e che sarà anche la notizia che arriverà lunedì 18 quando vedremo tutti i luoghi di culto riaprire. E pensate che tristezza sarebbe stata se avessimo avuto solo una riapertura dei luoghi di culto della religione cattolica senza la possibilità di aprire gli altri. Ecco, da questo momento che potrà interessare l'opinione pubblica, uno dei rari momenti in cui le questioni religiose vengono in ballo per questione di allargamento di diritti e non di polemica rispetto all'opinione pubblica, penso che poi si possa fare ulteriori balsi in avanti. Grazie. Bene, quindi staremo a vedere. Ringrazio allora l'onorevole Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato per essere stato con noi, e il pastore Davide Romano, direttore del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa dell'Unione Italiana delle Chiese Cristianaventiste e vicepresidente della Commissione delle Chiese Evangeliche per i rapporti con lo Stato. Grazie a entrambi, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie.